eccomi qua amici del tubo aspetta come state state bene eccolo qua tuca tuca viva a bassa calattuca sono tante le persone che hanno fatto la pasta con la lattuga la lattuga che dan usciara la lattuga l'insalata capito l'ha fatta pure marinella la pasta con la lattuga bollita con i pezzettini di formaggio dentro e l'olio belli supra la pasta che purifica dico io la pasta che fa bene non fa male fagli in bagno insomma ogni tanto di queste cose ci voglio ora stasera la io puru paesca calattuca tuca tuca e misa giacchi bugie a qualcuno ci può sembrare che non è così ma è così infatti stasera se eventualmente ci sarà la diretta faccia di la pesca calattuca cannes su mamma mancio tutta capito signori allora io sono solo petrificata va bene solo di un piccolo fatto ve lo racconto dico questo canale qua avete visto che il signor nino ha dato lo spazio alla signora nina questa che fa tutti che dà consigli ste cose di qua io francamente ci voglio chiamare ora ora so che lei fa la trasmissione quindi io ci voglio chiamare perché io ho delle cose da dire sia per quanto riguarda le mie cognate e anche per quanto riguarda mio marito sull'amore ci chiediamo qualcosa sull'amore cioè io vorrei sapere giusto non che mio marito mi ama si due in realtà questo amore finirà presto va bene non finirà non c'è mai stato si due se si due c'è una separazione ma non separazione che lo lascio io che mi lascia lui capito però non camalassa penna buca e camalassa ci siamo capite non posso parlare ok ne capiamo l'altro si due c'è questa cosa c'è che amare e vedete si due brava si due chissà ansietta che signori miei veramente capito poi dice l'oroscopo che il mio non l'ha detto va bene non l'ha detto io sono del crapacorno va bene ancora non l'ha detto l'oroscopo però è molto gentile ok è molto gentile viste che ci chiamò pure un cimunito di secchiello ma è cosa che ha ancora giuris chi ci chiami dico io chi ci chiami ma vedi dico ma come fa la gente dico io a cadere in queste trappole infatti io la metterò sotto torchia sotto torchia la metterò ci farò delle domande per dire se d'unzietta o unzietta o scusate se ne ho ca che cos'è ecco quasi d'unzietta o unzietta e di là poi voi che mi conoscete come le risponde voi potete un po capire se d'unzietta è veritiera oppure no ok perché signori miei nella vita non bisogna avere fiducia di nessuno ok io ve l'ho detto dobbiamo avere fiducia di noi stessi ok i fiduci io non ne ho mai avuta di nessuno ok quindi io non è che dico che c'ho fiducia di chi sa di questa qua nina però ci voglio chiamare ok innanzitutto ci voglio dire che ve lo dico a voi vediamo senta mi può dire le misure di mio marito se d'unzietta signori miei già voi di là dovete capirlo va bene perché a me a ca o ne a ca se monuate fisse giuste comunque tuca tuca viva a pasta calattuca è il titolo di questo piccolo video questo piccolo video che tante persone signori allora io sono sempre del parere di dire viva le cose naturali si è bello mangiare la carbonara è bello mangiare l'orecchietta cala con la cima dell'arrapo è bello chissaccio mangiare la pasta al forno la lasagna il cannellone però è anche bello mangiare le cose di una volta la pasta con la lattuga è antica perché una lattuga non custa niente si trova anche con 80 centesimi un euro massimo ma benno ma ci può bene il puro un chili passa ok accompagnata con olio e formaggio quindi la fine del mondo signori miei quindi è una bella pasta per me parlo per me purificativa capito purificativa purifica tutto ma io mi sento meglio quando mangio poi ci sono chiedi che dicono la pasta con l'acqua signori miei una volta cacciaviamo l'acqua e la pasta che vogliamo che lo sai siamo a pane e acqua si può dire va bene quindi signori è un detto ma a me piace tanti già c'è un odore c'è un non è che siamo paitarughe che dobbiamo mangiare allora si calla sempre raccossè bollita viene di una morbidezza di una cosa straordinaria qualcosa di bello che viene il cuore anzi anche dall'america mamma pina ciao mamma maria vi consiglio poi mamma paola chiantatilli qua c'ho lattugi mamma paola chiantatilli pigli e fai pasta che poi ti insegno lavato tipo i paesi a calattuca all'asciutto ma che non si può levare dalla bocca all'asciutto poi ti dico com'è e tu capito a muta muta lo dico per tutti te la fai visto che hai anche le acciughine tacatasse l'acciughine sott'olio chiedeo chi è capito gli sai dei salati chiedeo come si fa la pasta con le sarde con il broccolo arimenata così e anche la pasta con i tenerumi per esempio questo allora tanti possono dire dal nord i tenerumi che cosa sono basta andare su google e scrivere tenerume e là avete tutte le spiegazioni non me lo dite a mia perché a mia mi dicete che cosa su i tenerumi io vi posso dire solo il sapore che hanno ok quello con le zucchine lunghe quella la faccio pure all'asciutta io va bene all'asciutta con pastolini e pinoli a salata e spaghettilogne uno fa da così che teneru signori allora e quale terra quale terra un morì fame o capisce quindi questo signore quale terreno quagli e chianta con gli e mangia chianta pianta raccoglie e mangia capito è questa la cosa io l'ho sempre desiderato un pezzo di terreno per me ma mi bastasse proprio quattro passe per poter ci piantare di tutto di tutto io tempo fa ci avevo un giardinetto con un giardino ci avevo piantato io il basilico viene vaniate e su mangiavano capisci arrivava senza basilico una notte non ho dormito per vedere chi mi rubava il basilico ed erano iate se io non ne ho visto mai erano gatti e aggetariani forse qualcosa del genere ci piaceva un basilico io invece immaginavo che era la gente che passava lo vedeva e se lo prendeva capito ma io se avessi un pezzo di terreno io metterei l'allarme l'allarme appena qualcuno mettesse il pennello terreno piu 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 a così direttamente direttamente poi vedo che ci sono terreni che mettono gli spaventapassaro quelli che si mettono con le mani così io ce l'ho visto al naturale mi pegasse come un peati i miei cugnati che gli dicono spaventapassaro come chi non ce l'ho capito solo no 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 loro no loro no vero non me li posso prendere perché lo spaventapassaro è la stessa frase lo dice spaventa il passaro l'uccello gli attirano l'uccello no 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 per carità capo se no mi pezzoliano tutte cose no 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 chi ci aveva pensato ci metto un po' pazzo signori io non lo posso avere un terreno io forse il terreno che possa avere e chi non fosse quando capito che esce però dico non si sa mai se rinasco di nuovo un terreno bello sistema mi chianto tutte cose tutto tutto non mi deve mancare niente le gallinelle per le uova fresche e metto no da no perché pezzoliano i lattucchi e ardine pezzoliano a ardina capito quando cammina faccio cordura così e pezzolia sempre capito quindi tutto che tu che scommessa no no per carità meglio le lattughe meglio la lattuga l'uovo l'uovo muovo a cattunto supermercato capito quindi tutto qua ora mamma paola sicuramente farà un allevamento di lattughe poi vi faccio vedere io sassate per far sapere io ok farà un grande allevamento di lato anche mamma pina c'è spazio per poter piantare le lattughe la pianta le mamma pina ne facciamo la pasta tutte capito come mangio la pasta e la lattuga adesso sempre in forma in forma capito intanto vi faccio sapere che io per mangiare la pasta e la lattuga mangio spesso le verdure la pasta e la lattuga che su cucchia oggi ho fatto la visita nella diabetologa bello a posto dice signora si può sapere che cosa mangia ci si ce le dira a lei ci si non ho capito perché mi sta facendo queste domande io pensava che c'era qualcosa che non andava se no che ha mangiato lei ci si io però la mangio la pasta che lattuga che mi ha fatto cocchi pizza ci si dice a non esagerare lei si faccia sapere lei 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 dove vai il sabato sera a mangiare la pizza io mi ha mangiato la casa signora ci raccomando mi vuole ridere come su queste amici a posto e perché sta parlando se sono a posto significa che io vado bene poi ci si senta qua dottoressa ci devo dire una cosa ci si io ci ho dov'è che faccio i video una cosa di cara mia li mi stai mangiando tu a dice non si toccano quelli la quelli la non si tocca ci sa allora che fa me le tagliare a così le tagliare le tagliare che io sogno capito io sono come la de filippa mette la caramella capito e da così perché la caramella è vero e scarica i nervi io penso per esempio alle mie cognate cose sono nervosa ma me tocca mangio e penso di meno perché il movimento che ne tiene la mente impegnata capito una pensa al gusto nel mente che sta pensando può dire che buona e saccaramela sono distrazioni della vita sono distrazioni capito quindi tutto qua io quando sono così nervosa mangio c'è poco da fare prendo e ma è natura sono stata sempre così mia mamma dice mia mamma mi racconta io il primo beberone la pio dice che era tipo un teimus capito il termus quello dell'ospedale così dice che c'era il ciuccio quello delle pecore in due casi c'erano anche i pecore quando su un nico s'allattano e dice che quando io piangevo mi mangio per la verso cosa e dice che mi calmavo quindi sono stata dalla nascita così capito dalla nascita dice che io già a 15 giorni tenevo la biberona in mano perché mia madre mi voleva allattare lei capito ma dice che io già nascevo chiriente quindi ci facevo male a mia mamma capito per questo ora mi sta accadendo e chi sono io sono stata prematura di denta di denta capito perché dice che quando io nascevo e proprio sono uscita da mia madre dice che sono uscita così con il sorriso e dice che l'ostretica scappò scappò perché dice non ho mai visto una bambina che nasce con un dente capito con un dente quindi direttamente un tempo che mi faceva un bagnetto già c'era tutta la voce cresciuta che non si chiedevano perché e dice che fu l'aria a fare crescere sti denti quindi io già a quattro giorni cinque giorni dalla nascita io già era pronta a parru secaro pane a moita tela capito solo che mia madre non lo capiva e mi dava sempre latte e questo non andava bene e io piangevo 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 perché c'aveva fama signori miei queste sono le cose pulcioppo che signori miei se io vi racconto tutto tutto chi giù che è signori miei assurdo poi mi ricordo che quando sono cresciuta mio padre comprava la salsiccia ma la comprava contata che non è che stavamo bene noi per questo so cucinare perché mia mamma mi ha messo piccola nella cucina capito piccola signore una volta nel mentre che stavo facendo la salsiccia qua la facciamo noi col vino la salsiccia allora si prende la salsiccia la la salsiccia come la chiamate voi si prende e si mettono gli stecchini in mezzo perché poi girarla e si mette del vino bianco di sopra in padella essi e si mette il vino deve sfumare tutto ogni tanto la giriamo il grasso della salsiccia se ne va nel vino quindi è che diventa più magra e mio padre mi fai la salsiccia che sapeva che io mi afferava meglio di mia madre quindi ci metto il vino ci passa se io dall'odore non potete esistere io non c'è che perché io guardavo quella padella azzecavo a così e mangiava finché poi ma io io mi riuscivo che mi trovavo con la padella stava vuota e se ora cosa devo portare a tavola che dice mia madre ora ora mi mangia una bastonata mi da botte ora mio padre che deve dire capito tutto qua ci avevamo un cane noi che mio padre ci aveva messo di nome l'agnoso l'agnoso che era un cane con faceva niente tutta è nata si stava chi zamperà così o l'agnoso ci dicevamo noi avevamo il cane quindi io mi sono inventata una cosa nel mentre che loro erano là dentro che parlavano mia madre con mio padre si allattariavano fra le sorelle perché il discorso cognate è una cosa ereditaria lo capisci? mi mangia la via chi è solo di mio padre io piglia e mi messe anche il carabuccio e mio padre viene e dice ti dico che c'è ti dico che c'è capito nel frattempo ci aveva mangiato un musso o cane capito ci aveva messo una cosa mucca una cosa dolce aveva fatto con zucchero un temano così il cane faceva sembra così carino ma capito? ci disse l'agnoso si mangia la salsiccia si mangia la salsiccia l'agnoso mia madre ah l'agnoso che comerasse l'agnoso ricca l'agnoso e non potevano dire che non è vero perché l'agnoso faceva così ci stava lì ancora la mucca invece l'avevo io e me l'avevo mangiato io questo l'agnoso mi ha salvato di tante cose sta in maluzzo da quando morì dopo tanti anni certamente c'ho la fotografia con che botta va a far sovere l'agnoso il cane di mio padre capito? era un cane che anche per fare la pipì si doveva prendere e poi talo fuori, mrazza perché era l'agnoso a caminare e io caminava solo quando c'era c'era vorrei mangiare capito? poi mi hanno scoperto perché questo fatto di lì l'agnoso non è che fu soltanto con la salsiccia e fu pure con i brociolotti sì sì fu perché mio padre comprava le cose contate come si usa all'antica la moglie metteva di più al marito manco pensava ai figli al marito e i figli si ritrovavano con una cosa tante e io beh noi finivamo rimangiare prima ancora agghiuttevamo guardando lui e io col tempo mangiava capito? quindi c'erano le pesche le pesche che mia madre mi diceva c'era un albero di una mi diceva ti tieni adesira ma cogliere quattro pesche io avevo sempre da piccolina io fu consegnata e ma ricoglieva anche i pesche quelli più grossi erano di mio padre e io questo non lo sopportavo perché diceva le pesche le ho raccolte io la più grossa la devo avere io hai capito com'è quale cosa e se io abbi le ne feci pure con mia madre e con mia padre se tu mi metto a raccontare tutto finio finio capito? quindi poi sono stata scoperta sono sì sono stata scoperta perché nel mentre che io mangiavo i brociolotti erano i brocioluna che pesiede i brociolotti di carne che mia madre li faceva e mi diceva ti tieni a cucinare tutti noi eravamo nove signori miei otto brociolotti otto piccolini quindi otto sessimo nove perché perché uno poi lo divideva e lo faceva ma anche io dalla madre mia madre se ne mangiava neanche per dare neanche all'uomo non lo vava un pezzicca un pezzicca un pezzicca un pezzicca un pezzicca e mi faceva un altro una volta che resta su un uovo attuora ci posso diventare sei a uppopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop a mano, dice, non è che manco il pane sempre a mia, lo capisci? E nel momento che facevo così, mi giro e c'era mia madre che guardava così. Dice, allora tu ti sei fatti del lagnoso, che tu hai occupato il pane, quello che c'è fu, mi hanno mandato ai tempi, la punizione era andare a letto senza mangiare, dice, vai subito nella tua stanza, dice, quale stanza che in una rimamo tutti? Cioè, vai subito nella tua stanza, stasera non mangi, ed arece, capi? Ed arece, eeeh! Dice, va bene, ma vado nella mia stanza, io vado nella stanza, scavo il capo della finestra perché era pianta il reno e mi doveva accogliere quattro pesche, mi tagliavo, mi sono rosetta a panno venne e mi faceva spiegare, dice, tu hai fame, io ho mangiato, dice, se mi fai un gran favore, mi sono capo di re, mio padre teneva il vino come salvatore, devo te. Dice, vai a prendere un po' di vino? Dice, sento freddo. Ehi, d'accio, mamma, di chi ne vuole il vino? Dice, no, dice, sente freddo. Mia madre un po' di cuore ce l'aveva e mi mandò su così, io ci tagliavo quattro pesche, i rinchi, ta, 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 upa, e ci mi saziavo, mi arrangiavo, mi arrangiavo. Vi piacciono le mie storie? Se le mie storie vi piacciono, mettete che vi piacciono, che io poi ve ne racconto altre. Un bacio a tutti, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie.